C'è un Eevee fresco! Cappellino di Pikachu Collezione speciale di Palkia Bustine di ossidiane infuocata E andiamo a spacchettare Ciao ragazzi! Come va? Spero tutto bene? Allora, gran richiesta altri spacchettamenti di carte Pokémon Guardate che cosa ho trovato Nel mio negozio di fiducia è arrivato questo Palkia originale viastro Ma perché originale? Perché c'è anche fake? Cioè mi vuoi dire che lo vendono anche fake? È logico che è originale È logico che è originale Quindi oggi ci andiamo ad aprire questa belva E rimanete fino alla fine del video Perché ci sono tre pacchettini di ossidiane infuocata E potremmo trovare il Charizard Se non l'hai fatto iscriviti al canale Perché dobbiamo arrivare a 400.000 iscritti Unisciti alla famiglia dei Pokémon Quindi collezione di Palkia Originale Oh, sto originale mi fa morire da ridere raga Cioè veramente Quindi all'interno troveremo tantissime cose Fra cui anche cinque bustine E due carte promo Ah, non dimenticarti di scrivermi qua sotto ovviamente Le migliori carte che hai trovato questa settimana Come sempre andiamo ad aprire questa bellissima collezione Spero di non tagliarmi eh Ok, quindi scatola 1 Scatola 2 E scatola 3 E starnuto 1 Anzi 2 All'interno troviamo il viastro Troviamo la spilla di Palkia Molto carina Il codicino che ovviamente vi regala bella faccia per giocare a Pokémon Ed ecco la prima promo Palkia originale viastro Cioè raga, questo è originale eh State attenti ai fake E questa la carta originale E infine il possente Palkia originale vi Bellissimo Questo è super colorato E imponente Veramente fantastico E in più anche la carta Zambo gigante Che aggiungo alla mia collezione Vi giuro che presto ve la farò vedere Dentro troviamo due bustine di origine perduta Due bustine di lucentezza siderale E una di evoluzione etere Raga, sta collezione è veramente vecchia E ovviamente 5 bustine di ossidiana infuocata Let's go Raga voglio iniziare subito con evoluzioni etere Finalmente oggi si spacchetta Ma quanto è bello raga spacchettare Cioè vi giuro Io ormai sono diventato dipendente dagli spacchettamenti È troppo bello Ovviamente se trovassi qualcosa di utile invece Che ogni volta robaccia Allora l'ombre Shelgon Slacton Emolga Carvana È meglio che me la smetto E poi allenatore E raga Evoluzione etere Si chiude con flappe Male male Lucentezza siderale Ci farai trovare qualcosina di carino? Io spero proprio di sì Io spero di sì ragazzi Non mi ricordo comunque nemmeno cosa ci sia di power Il lucentezza siderale Non è che mi abbia fatto impazzire Anche perché dopo zenit regale Cioè il mio amore zenit regale Vediamo un po' Vediamo un po' Raga Raga Damon Mi sa che ce lo doppia Ma va bene Un allenatore Raga gli allenatori sono sempre ben accetti Perché dai 10, 20, 30 Che più ne ha più ne mette di euro Ci valgono Quindi tanta roba Spero che qui non valga un euro Damon Top Subito Prima carta Fresca Fresca Continuiamo con lucentezza siderale Ovviamente scrivetemi qua sotto Tantissimi consigli Su che box aprire Ma anche sulle carte che avete trovato In lucentezza siderale Io voglio sapere tutto raga Quindi scrivete Riempite la sezione commenti Che non vedo l'ora di vedere tutto Allora vediamo lino Poi vediamo un pochettino raga Andiamo veloce Univi Fresco Gardevoir Ma sotto c'è qualcos'altro Che fa schifo Gardevoir raga Tanta roba Bellissimo Anche questo non so se l'ho già trovato Però wow Bello bello Bellissimo Lo aggiungiamo qua E c'è c'è Ci sta andando bene Mi ero impallato Another one Orisine perduta E qui raga In origine perduta C'è roba C'è roba fresca qua eh Bustine fresche Bustine fresche eh Codicino Mamma mia quanti codicini Vi avrò fatto vedere Vi avrò fatto diventare ricchi Ormai in quel gioco eh Energia Poliwert Poi proseguiamo Anche origine perduta È stata bella Spacchettarla eh Vediamo un po' raga Raga Un lucente Ma che cos'è oggi Stelix lucente E poi Craborant Bello Ma guardate come brilla Non so quanto valga Però raga I lucenti Mi affascinano sempre Bellissimo Stelix lucente Tanta roba Top Ultimo di origine perduta E poi si passa I cinque pacchettini Con dentro Il charizard Raga eh Ho aperto malissimo Sto pacchettino eh Ok vediamo Origine perduta Oh era da un po' che non veniva La carta nera eh Carta nera di viastro Porterà fortuna Oppure no Dicono che non si sia nulla Nei pacchettini Con quella carta viastro Stiamo a vedere raga Stiamo a vedere Stiamo a vedere E infatti Candeludre Nada Iniziamo a scaldarsi Con questi pacchettini Perché adesso Il fuoco di charizard Che arde Si fa sentire E' sempre più caldo eh Raga C'è qua C'è la svolta Io lo dico sempre Lo ripeto in continuazione Allora qua ovviamente La prima Io lo ripeto in continuazione Qua dentro c'è Ci sono più tipi di charizard E sarebbe bellissimo Trovarli Però so Che è una sfida Difficile So che è una sfida Difficile Raga Nulla Nulla per ora E questi Non sono pacchettini normali Sono i pacchettini Del box Da 36 Quindi potrebbe essersi Di tutto eh Potrebbe essersi Di tutto Io li ho divisi In vari video Cosa sto facendo Li ho divisi in vari video Perché così magari Troviamo Qualcosa di epico Cioè dai Forza eh Charmeleon Attenzione Si inizia a sentire Magnezone Audino Bellino Audino Raga Ragonex Ragonex Pigeotex È proprio lui Va bene Va bene Va bene Va bene Quindi Stiamo trovando Tanta roba Vai Un altro pack Di ossidiana infocata Comunque vi ricordo Di lasciare un mi piace A questo video Perché se mi farete Vedere che i video Di spacchettamento Di carte pokemon Vi piacciono Io prendo un altro box Da 36 raga Che sono fra i 150 E i 200 euro Io dico solo questo Cioè io dico solo questo Raga Quindi mi raccomando Fatelo per me Fatelo per Charizard Fatelo per le pokemon Siamo pronti Siamo qui Siamo qua Lampant E poi raga nulla Palafin Una semplice All Ma dove è finita Tutta la fortuna Che avevamo all'inizio Dove è finita Cioè è già andata via Rimanete fino alla fine Perché questo è il penultimo Pack raga Cioè potrebbe esserci Energia fuoco Vuoi dirci qualcosa Questo pacchettino Vuole dirci qualcosa Raga Altaria Eh io con una fuoco Ho bisogno di un bel Pokemon fuoco Ho bisogno di un bel Pokemon fuoco Dracari raga Abbiamo l'ultimo pack E nell'ultimo pack C'è lui Charizard Forza 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 Siamo stati fortunati Ma voglio chiudere col botto Voglio chiudere col botto qua Una bella carta Per favore Sarà difficile Sarà molto difficile Raga Charmander Dratini Dragonair Con queste evoluzioni Va bene Continuiamo Gloom Nada E poi No raga No 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 Alisma E anche questa volta Non abbiamo trovato nulla C'è in cinque pacchettini Solo Pigeotex Mi vuoi dire Quindi raga Questo è il nostro bottino Vabbè Le due carte Promo Di Palkia Pigeotex Stilix Stilix Lucente Gardewar E Damon Sono stato fortunato Beh Fatemelo sapere voi Qua sotto In un commentino Da me è tutto Vi aspetto In un prossimo Spacchettamento Di carte Pokémon Non mancate ragazzi Che vi aspetto Mi raccomando Sempre Alle tre Ci vediamo domani Un salutone Ciao Ciao